Nessun pericolo per il finanziamento ANAS relativo allo svincolo autostradale di Eboli. A confermarlo, dopo l'interrogazione del gruppo MDP-LEU, il presidente del Consiglio Comunale di Eboli, Fausto Vecchio. Oltre alle rotatorie alle rampe, spiega Vecchio, sarà realizzata anche la nuova caserma della Polizia Stradale. Nei prossimi giorni, intanto, si terrà un nuovo incontro con i vertici ANAS per provare ad accelerare l'iter procedurale che consentirà al Comune di posare la prima pietra. In mattinata, intanto, i consiglieri di opposizione hanno presentato una richiesta di Consiglio Comunale monotematico sulla questione.